In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati in questo commento del Vangelo della Domenica. Abbiamo saltato la settimana scorsa, cioè la settimana di passione, perché i temi erano già tanto numerosi da approfondire e le occasioni ce n'erano tante, per cui ecco riprendo questa settimana e parliamo del Vangelo di Domenica prossima, che è il brano di Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al 31. E bisogna sapere che Domenica prossima è la Domenica in Albis, chiamata da alcuni anni anche Domenica della Divina Misericordia. Il titolo di Domenica in Albis è antichissimo, risale ai primi secoli della Chiesa, quando i battezzati ritornavano la Domenica successiva alla Pasqua con i loro vestiti bianchi, le vesti che avevano ricevuto durante il loro battesimo, la veste bianca del battesimo. Per l'ultima volta poi riponevano proprio la sera di quel giorno, per indicare che d'ora in avanti si impegnavano, anche se non portavano esteriormente la veste bianca, a mantenere la loro anima fedele e pura davanti a Dio. Quindi il primo titolo di Domenica in Albis richiama il battesimo, il tema del battesimo e il tema della fede. Mentre il secondo titolo molto recente, ma direi appropriato e molto inerente sempre al discorso del battesimo, è il titolo di Domenica della Divina Misericordia. Quindi questo abbinamento è veramente riuscito, secondo il mio punto di vista, ma credo che sia proprio così. È Domenica della Divina Misericordia quando Giovanni Paolo II ha istituito questa festa accogliendo le rivelazioni di Santa Faustina Kovarska. Il tema della misericordia comunque è ben presente. Anche esso nel Vangelo di oggi. Parliamo nel Vangelo di Domenica. Parliamo quindi di questo brano di Vangelo che ci racconta all'inizio la prima apparizione di Gesù risorto a tutto il gruppo degli apostoli nel Cenacolo. Prima, durante la giornata di Pasqua, era già apparso ad alcune persone, per esempio Maria Maddalena e i discepoli di Emmaus. Ma la prima apparizione a tutto il gruppo è della sera di Pasqua. Il brano dice che le porte erano chiuse, le porte del Cenacolo, erano ben chiuse, per dire che Gesù riesce a passare, ad entrare attraverso le pareti stesse. Quindi il suo corpo è un corpo che non è più uguale, non ha la consistenza di un corpo come il nostro, che quindi ha bisogno, per passare da una stanza all'altra, di aprire le porte. Per il Signore non è così. È un corpo risorto. Ecco, e i discepoli si trovavano dentro, ben chiusi, l'Angelo ce lo dice, per paura dei giudei. Certamente nel loro cuore c'era questo timore, che come avevano arrestato e ucciso il loro maestro, la stessa fine potesse capitare anche a loro. Perciò sono estremamente prudenti e si chiudono dentro. Nel loro cuore però non c'è solo la paura dei nemici che vogliono la loro eliminazione, ma c'è anche un grandissimo senso di colpa. C'è un grandissimo senso di colpa. Perché si erano comportati molto male durante la passione del Signore. Erano scappati, lo avevano abbandonato, completamente. Soltanto Giovanni era riuscito a rimanere sotto la croce del Signore, ma non aveva potuto opporre nessuna resistenza. Quindi tutti lo avevano abbandonato, perciò si sentivano anche colpevoli di fronte a quel patto di amicizia che c'era tra loro. Ma il più colpevole di tutti era Pietro, il quale si era oltre ad essersi tenuto nascosto, diciamo così, dietro le quinte, mentre Gesù era nel palazzo del sommo sacerdote, non soltanto aveva fatto questo, ma addirittura lo aveva rinnegato, negato di conoscerlo, di averlo mai conosciuto, per almeno tre volte. Quindi la sua colpa, anche perché era il capo degli Apostoli, quindi avrebbe dovuto dare un esempio a tutti gli altri. Aveva fallito anche in questo. Ovviamente non c'era il traditore che si era già dato la morte da sé e quindi non era presente. Il gruppo è soltanto di undici persone e di undici persone che devono dire mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ma le prime parole del Signore quando appare loro ed essi sono intimoriti, perché adesso cosa succede? Adesso viene a rimproverarci questa nostra colpa, il nostro difetto di fedeltà all'amicizia che c'era prima. Invece il Signore comincia con le parole pace a voi, cioè con delle parole di perdono. Abbandonate quel senso di colpa che c'è, che ostacola il vostro cuore, che riempie il vostro cuore. Non sono venuto per condannarvi, ma sono venuto per darvi il mio perdono e la mia comprensione. Quindi fanno un'esperienza, l'esperienza del perdono, prima di tutto verso se stessi. Ecco quella grande gioia che scaturisce nella loro anima alla vista di Gesù e soprattutto a sentire quelle parole pace a voi, a vedere Gesù che viene con intenzioni e di riconciliazione, si sentono presi da una grandissima gioia, sono liberati. L'esperienza del perdono libera l'anima e la rende capace di gioia. La rinnova e soprattutto quella gioia interiore che soltanto Gesù può comunicare con la sua presenza. I peccati passati sono cancellati, non esistono più. C'è una storia nuova. C'è una storia di libertà e il Signore libera le persone attraverso il perdono dall'interno della loro anime. e scardina quelle catene che tengono prigionieri il cuore di tanti uomini, di tante persone. Comincia dagli apostoli. Non solo li perdona e usa misericordia verso di loro, ma subito li incarica di essere amministratori di perdono verso tutti gli uomini. andate, perdonate i peccati. A chi li rimetterete saranno perdonati e a chi non li rimetterete non saranno perdonati. Per fare questo il Signore soffia su di loro, quindi comunica lo Spirito Santo, perché non basta dare un ordine per Gesù. Bisogna anche dare la grazia per compiere una missione. Non è ancora la Pentecoste, quindi non è ancora quella effusione potente della Pentecoste, ma li sta preparando lentamente. Anche in questo vediamo la sua grandissima misericordia, perché Gesù procede per gradi nei nostri confronti, rispettando le nostre possibilità. Quindi andate, perdonate i peccati, avete fatto questa bella esperienza personale, ora comunicatela agli altri. Ve ne do il potere io, avete lo Spirito Santo per farlo. Però, attenzione bene, non a chiunque e non sempre va dato il perdono. A chi rimetterete i peccati saranno perdonati, a chi non li rimetterete non saranno. perdonati, cioè dovete operare prima un giudizio sulle persone, un discernimento. Se ci sono le condizioni si può perdonare, altrimenti no, non si deve perdonare. Si perdona a chi? Si perdona a chi ha fede prima di tutto e si perdona a chi è pentito e si perdona a chi cerca di cambiare vita, a chi fa qualcosa per cambiare vita, eccetera. Ci sono delle condizioni che la Chiesa nel tempo con l'aiuto dello Spirito Santo ha codificato. Quindi il perdono a 360 gradi non esiste nella mente di Dio e non è neanche giusto che esista. Il Signore chiede la fede, il Signore chiede il pentimento. Vedete anche dopo nella seconda parte del Vangelo c'è l'episodio di Santo Maso a Santo Maso il Signore dice non volere più essere incredulo ma credente. Ecco questa frase molto importante il verbo volere chi è incredulo nonostante abbia ricevuto il messaggio di Dio l'annuncio del Vangelo nonostante abbia ricevuto tante testimonianze e resta incredulo è perché non vuole credere non voler più essere incredulo questo non volere è determinato dalla superbia dall'arroganza dall'orgoglio se io non metto il mio dito nelle piaghe non crederò non crederò se non metto il mio dito nelle piaghe ma alla fine l'intervento di Gesù determina la fede di Tommaso mio Signore e mio Dio questa è la vera fede Gesù è Signore Gesù è Figlio di Dio Gesù è Dio se c'è questa fede non pronunciata solo a parole ma vissuta nel quotidiano ecco ecco allora che il Signore può dirci beati voi che pur non avendo visto avete creduto sia lodato Gesù Cristo in nome dei Patris e Fili e Spiritus Santi Amen